Il Tar Campania, sezione di Salerno, non concede la sospensiva ai cinque ricorrenti che avevano presentato ricorso rispetto all'iniziativa del Comune di Agropoli di realizzare un'isola ecologica e località a Malaginia. Il giudice del Tribunale amministrativo non ha ritenuto sussistenti le motivazioni adottate dal legale dei ricorrenti. Questi aveva sollevato la presunta illegittimità del provvedimento dal punto di vista urbanistico, in quanto non conforme allo strumento urbanistico adottato, quindi il pericolo di tipo ambientale per la presenza di una condotta ASIS che transita sotto il terreno dell'area oggetto di intervento. Il giudice, con apposta ordinanza emanata di recente, ha rigettato le richieste della controparte, ritenendo il progetto dell'ente sostenibile urbanisticamente e insussistenti i pregiudizi di tipo ambientale e di sicurezza sollevati. La pronuncia del giudice spiega il sindaco Adamo Coppola, che con l'ordinanza emanata ieri entra di fatto nel merito della questione, bocciando le tesi sollevate dai ricorrenti, va a tranquillizzare, se ce ne fosse bisogno, in merito alla validità dell'iniziativa che l'amministrazione comunale sta portando avanti. Sarà realizzata una normale isola ecologica, come ce ne sono in tutta Italia e in tutti i paesi civili.